Amici del Mirage New York, mi piacciono un sacco queste Nike Air Vapor Max Plus Guardate che belle, secondo me ti fanno volare proprio Costano 200 dollari e sono veramente bellissime Mi piacciono davvero un sacco Sarei quasi portato a comprarme, non oggi, non adesso Belle proprio Il laboratorio Nike è pazzesco amici Bellissimo Guardate anche questa trick Ah, madonna mia, bella Bella questa, costa 120 dollari E poi vi fa vedere com'è la composizione Questo è Fierarmenti, ricordatevelo Madonna, Adam Knit Mamma mia, questi sono spaziati Ragazzi, questi sono spaziati Queste me le devo comprare Sono spaziati, questi sono 275 Sì, un po' caro, ma veramente assurde Mamma mia, qua voli, qua veramente si vola Vado più veloce di Bolt Madonna, ma anche questa, fighissima 200 dollari, bella proprio E questa, questa è proprio elegante La vedo elegante 150 dollari Nooo Io amo il celeste Opera d'arte questa Amici, qua 220 dollari Davvero fighissima Questa dorata 225 E' proprio per gente gold Bella Madonna, quante ce ne sono Pazzesco Vabbè, queste Air Jordan Sono spettacolari 125 dollari Guardate anche queste, dai 140 dollari Coloratissime Guardate queste Costano anche poco 96 dollari 67 A qui Questi pallini Non so cosa siano Anche queste Osservate 96 97 Elegantissime Nike 160 Davvero molto molto belle Anche queste Questa c'è un tessuto Molto bello 220 Coloratissime Guardate anche la suola Osservate la suola Magliette Col viso Della Stata della Libertà Per chi è interessato Qua vi fa vedere Tutte le scarpe Vedete Tutti i vari pezzi Come sono composte E perché sono uniche Per me è evidente Guardate Qua vedo tutta la Fifth Avenue Tra l'altro È evidente che Nike Ha un livello di Innovazione Spettacolare Anche Se pensate a dove siamo partiti Dalle scarpe da ginnastica Antiche No D'atletica Da tennis Siamo arrivati a Questa perfezione Bellissima questa Cos'è? Cos'è? Non lo so neanche 85 Che maglia sarà? Boh Stile Nike Anche una bella maglietta Come questa 85 È inutile dire Che quando vengo qua Mi sento di 15 anni Più giovane Belli sti pantaloni Una bella Felpina Così Made in Vietnam Dry 5 feet Costa 80 Questo è un tessuto Meraviglioso Amici Questo qua È proprio bello Come tessuto Vedete che bello Anche questo New York City Altre scarpe E qua Vedete Ci sono i vari Prototipi Bellissimi Bellissimo Queste sono le scarpe Del futuro Questo è il prototipo Vedete Della scarpa 2008 Bello Dai Vedetela Anche Questa bella installazione Bellissima Perché con la Nike Bisogna correre veloci Ancora la composizione Quello sono sempre io E tutte le varie scarpe Per andare veloci Ora usciamo Vi dico tre cose Il negozio è sulla Fifth Avenue Ed è pazzesco Penso uno dei più bei negozi Di New York Nike è un marchio Che tutti conosciamo Capace davvero Da solo questo marchio Di rivoluzionare Il mondo Il mondo della moda Ma il mondo anche In cui noi indossiamo E scegliamo le scarpe Nike Significa tante cose Poi per i ragazzi americani Le prime Nike È sempre un ricordo Che ti porti dietro Tutta la vita Vabbè amici St. Patrick Ci vediamo a New York Ciao